La città di Bivona, in territorio di Agrigento, è sita al centro della verde suggestiva vallata del fiume Magazzolo, adagiata tra il lago Castello e il picco roccioso di Montagna delle Rose, a poche decine di chilometri dal mar Mediterraneo. L'origine di Bivona risale al 1160, al tempo della dominazione arabo-normanna. Tra il 400 e il 500 fu uno dei maggiori centri feudali di Sicilia, il primo ad essere levato a Ducato ad opera di Carlo V, nel 1554, anno in cui lo stesso imperatore conferì al paese il titolo di città. Culturalmente vivace, Bivona è la città della musica. Innumerevoli sono infatti i concerti e gli eventi organizzati dalla locale scuola di musica Gaspare Lonigro, che coinvolge moltissimi giovani musicisti. Bivona, immersa tra querceti, pinete, praterie e ruscelli, è la sede del Parco Naturale Regionale dei Monti Sicani. La fauna, in particolare l'Avi Fauna, è ricca ed interessante, tipica dell'entroterra collinare mediterraneo. Bivona vanta un'antica e particolare tradizione agroalimentare e gastronomica di chiara matrice araba. L'atmosfera che si respira tra le vie e le piazze dell'antico borgo medievale è intrisa di leggende, di antiche tradizioni siciliane, della quiete e della serenità che solo un diretto contatto con la natura può suscitare. Bivona possiede un'economia prettamente agricola ed è nota per la coltivazione della rinomata pesca Bivona IGP. Il progetto Bivona a case a un euro, sulla scia di iniziative simili adottate da alcuni comuni di Sicilia e d'Italia, ha l'obiettivo di recuperare e valorizzare gli immobili siti nel centro storico, restituendo a quest'ultimo la sua funzione storica di centro propulsivo di vita e cultura e favorendo l'insediamento abitativo di famiglie, di attività turistico ricettive, di esercizi commerciali o botteghe artigianali. Si tratta di edifici di in dubbio interesse architettonico ma ormai disabitati ed in cattivo stato di conservazione, di proprietà di privati cittadini che non hanno più interesse a recuperarli. Gli immobili vengono venduti ai compratori alla cifra simbolica di un euro. Il Comune di Bivona è garante del rispetto delle clausole previste dal regolamento Bivona a case a un euro, ma non ha alcun titolo ad intervenire nelle trattative tra venditori ed acquirenti. Naturalmente ci sono degli impegni per chi acquista un immobile attraverso Bivona a case a un euro, predisporre e depositare presso il competente ufficio del Comune il progetto per l'esecuzione dei lavori. In conformità a quanto previsto dal piano regolatore generale vigente, entro e non oltre tre mesi dalla stipula dell'atto di compravendita. Sostenere le spese, nessuna esclusa, comunque connesse al regolare passaggio di proprietà del bene. Iniziare i lavori entro un anno dalla data dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire ed ultimarli entro e non oltre il termine di tre anni. A garanzia della sicurezza dell'acquisto da parte del compratore, il Comune chiede di stipulare una polizza fideiussoria di 2.500 euro della durata di tre anni. Grazie.